Grave incidente stradale questa mattina lungo la 2 del Mediterraneo tra Contursi Terme e Sicignano degli Alburni in direzione sud. L'incidente tra due mezzi pesanti si è verificato all'interno della Galleria Sant'Angelo. Per motivi in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, i due mezzi pesanti si sono scontrati. Uno dei due è andato a sbattere contro il muro alla sinistra e la cabina del pilota si è completamente distrutto. Il conducente del camion è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita. Sul posto immediato l'arrivo dei vigi del fuoco di Eboli e Sala Consilina con il capo squadra Eugenio Siena, della Polizia Stradale, dei tecnici dell'ANAS e del personale del 118. Il ferito è stato subito trasportato, dopo essere stato liberato, dalle lamiere della carrozzeria in ospedale. Grandi disagi al traffico con code chilometriche, a causa ovviamente dell'incidente. Per fortuna il lavoro da parte delle forze di polizia e dei tecnici dell'ANAS è stato immediato e si è potuta liberare almeno una corsia per il transito dei mezzi.